Benvenuto, mi chiamo Gianluca Guidolin e sono un consulente assicurativo. Come posso riconoscere un buon consulente assicurativo? Ho preparato una breve checklist composta da 5 elementi da utilizzare per valutare il tuo attuale consulente oppure un consulente con la quale ha intenzione di iniziare a lavorare. Ovviamente la base di tutto questo è effettuare domande, chiedere. Non farti problemi, è importante che tu faccia una scelta corretta, ne va anche del tuo patrimonio. La prima cosa da fare è indagare sulla sua persona. Avere la possibilità di lavorare con una persona etica, corretta, dai sani principi e motivata può essere solo un punto a favore per te. Il secondo punto invece riguarda qualifiche, riconoscimenti, titoli di studio e certificazioni rilasciate. Ovviamente un consulente al quale vengono rilasciati riconoscimenti o certificazioni di un certo tipo avrà sicuramente delle capacità tecniche, professionali e anche relazionali superiori alla media. Il terzo punto è capire se il consulente è monomandatario, plurimandatario o un broker. È un punto fondamentale per capire come questa persona effettivamente lavori. Nel video precedente troverai la spiegazione della differenza tra l'agente monomandatario, l'agente plurimandatario e il broker. Il quarto punto è capire cosa dicono di lui. Se si ha la fortuna di abitare nella sua stessa zona si può interagire con persone che già lavorano con lui altrimenti si può guardare e valutare le recensioni e i feedback rilasciate dagli attuali clienti. L'ultimo punto è fare un confronto con gli altri consulenti. È necessario per valutare se la persona con la quale stiamo interagendo è ottima per noi o meno. O si comprende che il servizio offerto è già ottimo o ci darà la possibilità di capire che è il caso di valutare altri consulenti assicurativi. Prova a compilare questa breve checklist seguendo i punti descritti e fammi sapere come ti trovi. Grazie!